L'indice di fiducia degli imprenditori e delle imprese cala, in più scopriamo da un recente rapporto che l'Italia è diventata fanalino di coda per quanto riguarda l'erogazione del credito alle imprese. 50 miliardi di risparmi ai conti corretti bruciati, la benzina al 2 euro e tantissimi altri dati negativi. Questo secondo semestre sarà ancora peggiore. Quindi ha fatto un quadro che mi sembra sufficientemente negativo. Poi andiamo a vedere situazioni più specifiche. Visto che lei ha parlato di immigrati, le voglio fare questa domanda perché ne sono arrivati all'inizio dell'anno 114 mila, insomma il doppio dell'anno scorso. Guardi, 115 mila comparati ai 61 mila nello stesso periodo dell'anno scorso. Siccome Salvini dice che l'unica soluzione per fronteggiare questi arrivi è un ritorno ai decreti sicuretivi che erano stati approvati durante il vostro esecutivo, quello del Movimento 5 Stelle della Lega.